Con la fede dentro uno guarda il quadro e chiede protezione, protezione a questa nostra madre, insomma, la nostra madre di Arezzo, la madre di Dio, che ci aiuti nell'infinito. Bisogna credere di più, come ha detto lei, con gioia però, non con tristezza, perché con gioia, dico bene. La leggenda che diventa tradizione, dal 1796 gli aretini venerano l'immagine mariana della Madonna del Conforto, da quando la piccola terracotta, ritrovata in una cantina, si illuminò e liberò Arezzo dal terremoto. Un racconto oggi quanto mai sentito con le immagini a cui tutti noi abbiamo assistito della tragedia in Turchia e Siria. Lo stesso cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, vescovo di Siena, che ha presieduto la messa della mattina, lo ha ricordato. È talmente evidente, ce l'abbiamo talmente nella mente e nel cuore questa situazione. Tra l'altro questa, la Madonna che protegge dai terremoti, un po' me la porto qualche giorno a Siena. Ovviamente non abbiamo avuto nessuna grave conseguenza, insomma, qualche chiusura di qualche luogo, anche del Duomo per un po' di giorni, ma insomma solo per verificare che non ci fossero danni o problemi, anche in queste scosse di terremoto che abbiamo avuto nei giorni passati a Siena. La guerra e soprattutto le vittime del terremoto sono davanti ai nostri occhi momento per momento. E credo che proprio anche l'atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti di quello che succede lontano da noi, ma anche vicino da noi, spinti proprio da questo fate quello che vi dirà, credo che questa sia la miglior risposta, al di là del fatto che chiaramente continuiamo a pregare. E poi il 10 marzo ci uniremo, per esempio a Siena unirò alla preghiera per la pace, anche la commemorazione per tutte le vittime del terremoto. E giustamente dobbiamo continuare non solo nella preghiera, ma anche nel concreto a sostenere, a promuovere, a inviare aiuti, a fare tutto quello che è possibile, tutto quello che il Signore ci ispira. Preghiere e pensieri dunque affidati all'immagine sacra, ma anche occasione per ribadire l'importanza di lavorare per la pace in Ucraina. Io ho l'impressione che siamo in un momento di follia del mondo, dove si continua a parlare di armi, di produzione, di consegna, di armi, e quindi stiamo alimentando le strade della guerra e dello scontro. Occorre il coraggio e forse presenze, figure profetiche, segni, che invece ci riportino sulle strade del dialogo. Certo, nessuno mette in dubbio che c'è un aggredito e un aggressore. Questo è pacifico e quindi noi dobbiamo anche cercare la pace sulla via della giustizia, cioè ripristinando la giustizia e chi è aggredito va sostenuto, va difeso, va accompagnato. Ma cercando con la fantasia dei semplici, ma anche con la responsabilità dei grandi, cercando le strade del dialogo, della pace, dell'incontro, del cercare un punto di soluzione più che la strada delle armi.